Incidente nel pomeriggio di lunedì 27 marzo, poco prima delle 15.30, in via Ponte, frazione Camagna, Rivara. Un uomo è rimasto incastrato sotto il trattorino che si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vrea Castellamonte, l'elicottero dei vigili del fuoco Drago, l'elisoccorso 118, la Croce Bianca del Canavese e i carabinieri della compagnia di Benaria. L'uomo è stato liberato dal mezzo e affidato alle cure dei sanitari che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno caricato sull'elisoccorso per il trasporto all'ospedale CTO di Torino. Sul posto anche il sindaco Roberto Andriollo e il vice sindaco Vincenzo Martino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.